Presso la piscina comunale di Montevarchi, domenica un'iniziativa rivolta al Mayor di Firenze, una giornata dedicata ai bambini ma anche alle famiglie con giochi, attrazioni, divertimento, con una sorpresa anche gradita soprattutto ai più piccoli, ma ne parliamo con Simone Piomboni, uno degli organizzatori di questa manifestazione che è alla prima edizione e che aiuta un ospedale che è leader in Europa per la pediatria. Un gesto dovuto, ma cosa spinge a portare una manifestazione così a Montevarchi e cosa si potrà trovare? Quello che spinge a portare una manifestazione di questo genere a Montevarchi è la voglia di aiutare coloro che hanno bisogno, che faticano a andare avanti perché magari il destino gli ha riservato una brutta sorpresa che nessuno sarebbe mai aspettato, magari nelle loro famiglie. Questa cosa è nata anche un po' da un'idea di una mia amica che me l'ha proposta, io non ci ho pensato un attimo, ho subito accolto la sua idea e sono venuto a parlare qui con la piscina del Centro Noto di Montevarchi, che anche loro hanno messo subito a disposizione il loro spazio senza batter ciglio e abbiamo pensato di fare una manifestazione rivolta ai bambini appoggiandoci ad un progetto, che si chiama Progetto Adolescenza del Meyer, in collaborazione anche con il Nico Grulli Fan Club, che è un gruppo di Facebook nato per un bambino che si sta curando al Meyer per un tumore, e è nata quest'idea di questa giornata. Durante la giornata, che inizierà la mattina verso le 10, alle 10 sarà l'inaugurazione con l'assessore di Montevarchi, Giovanni Rossi, verranno aperti i cancelli e la giornata inizierà con l'accoglienza con delle mascotte Disney e tutto si svolgerà con animazioni, truccabimbi, associazioni che faranno spettacoli di circo, ci sarà poi durante la giornata anche esibizioni di falconieri, cani, cavalli e tantissime cose e attrazioni appunto per i bambini. E durante la serata ci sarà anche una graditissima sorpresa, verrà a trovarci una mascotte famosissima per i bambini, che sarà Peppa Pig, e sarà il Festa Bimbi Animazione a portarcela. Per quanto riguarda il ricavato, andrà al Meyer, cosa sosterrà e soprattutto come fare per dare le eventuali offerte? Allora, per dare eventuali offerte basta semplicemente domenica 20 luglio alle 10 presentarsi ai cancelli del centro nuoto Montevarchi, e entrando faranno un'offerta e poi tutto ricavato, come dicevo, verrà portato a mano da noi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e andrà a sostenere il progetto adolescenti del Meyer appunto. Ecco allora, diamo l'appuntamento e ricordiamo anche l'orario fondamentale per le famiglie e che ovviamente possono non andare al mare per una domenica, ma restare a Montevarchi per un'iniziativa che aiuterà altri bambini e perché no farà passare una domenica, si spera, divertente. Certo, l'appuntamento è per domenica 20 luglio alle ore 10 della mattina, ci sarà l'apertura ai cancelli presso il centro nuoto di Montevarchi e appunto per una domenica si può rinunciare alla spiaggia e al mare e venire in piscina e fare anche un'opera di bene.